A livello europeo sono circa una settantina i casi registrati di monkeypox, il cosiddetto vaiolo delle scimmie, mentre in Italia sono circa una decina, nessuno in Abruzzo. Ma per essere pronti all'eventualità di un propagarsi della malattia infettiva a fini precauzionali, il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni per fare chiarezza sulla malattia e attivare la gestione dei casi, dal trattamento con farmaci al tracciamento dei contagi, ma anche il sistema di prevenzione, parlando chiaramente di ipotesi vaccino per il personale sanitario e di quarantena. Una vicenda su cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise ha annunciato di essere pronto per lavorare anche su monkeypox. C'è un'attenzione adesso forse anche esagerata sulle malattie infettive emergenti, questo è un effetto del Covid ovviamente, l'opinione pubblica è assolutamente interessata a quello che succede soprattutto per quanto riguarda le nuove malattie, apparentemente nuove, perché a differenza del Covid monkeypox invece è una malattia arcinota, è una malattia che si conosce e che purtroppo esiste già da parecchio tempo, è una malattia scoperta per la prima volta nel 1958 in alcune scimmie, ecco perché è il termine monkeypox, ma in realtà la storia è molto più complessa, si dovrebbe analizzare molto meglio qual è il ciclo epidemiologico dell'infezione. È una malattia che comunque in questo momento desta preoccupazione perché c'è stato questo focolaio diciamo multicentrico in diversi paesi europei, comunque tutti ricollegati a un evento singolo. È una malattia che esordisce con questa febbre molto importante, seguita da rigonfiamento dei linfonodi, malessere generale, dolore di articolazione, dolore muscolare e poi dalle famose vescicole vaiolose. È una malattia comunque autolimitante, la trasmissione interumana è difficile con le goccioline respiratorie, quindi qui mi sento di poter assicurare l'opinione pubblica sul fatto che non è trasmissibile come il Covid, assolutamente no. È una malattia che però si può trasmettere con il passaggio di fluidi infetti e quindi comunque le persone infette devono rimanere assolutamente isolate in quarantena. La malattia poi si risolve in maniera molto efficace. A differenza del Covid soprattutto, questa malattia è nota, abbiamo già un vaccino a disposizione. Su questo fronte l'IZS sta facendo qualcosa? Sicuramente noi come centro di referenza delle malattie esotiche animali ci stiamo attrezzando per poter lavorare anche su Monkeypox. In passato abbiamo avuto esperienze con altri virus pox, perché comunque è un virus zoonotico, un virus che riconosce come serbatoio alcuni animali, quindi sicuramente stanno già partendo molte collaborazioni con alcuni paesi di una malattia endemica per poter studiare meglio la malattia dal punto di vista epidemiologico e genomico. Però la situazione diagnostica in Italia è totalmente sotto controllo, quindi non vedo in questo momento un grosso impatto dal punto di vista diagnostico, nulla a che vedere con il Covid, però sicuramente le attività di ricerca possono essere un volano per sublimare ancora di più il concetto di One Health, di salute unica in cui il nostro istituto è ampiamente coinvolto.